Ciao, oggi presento un dessert al piatto, una rivisitazione della torta mimosa. Utilizzerò due dischi di pan di spagna, del pan di spagna tagliato a dadini, una canella di gelato all'ananas che ho messo sopra un biscuit al cacao, del caviale al limone che userò per decorare il piatto per simulare la mimosa, delle scaglie di cioccolato, una salsa di amarene sciroppate, la bagna analcolica all'arancia, Nel sifone ho preparato, ho già inserito, della crema pasticcera classica diluita con 50% di panna e un po' di guantrum. Come prima cosa metto la salsa Ho il primo disco di pan di spagna Con il ring Bagno con la bagna, con un sciroppo Un po' di scaglie di cioccolato E riempio col sifone Copro con il secondo disco di pan di spagna E tolgo il ring Metto un po' di crema anche sopra E un po' di dadi di pan di spagna Posiziono la canella di ananas Il caviale di limone Il caviale di limone Un po' di zucchero a velo Un po' di zucchero E un po' di zucchero E un po' di zucchero Un po' di zucchero E qualche scaglia di cioccolato Per decolare il piatto E il dessert è pronto Grazie alla prossima ricetta Ciao Ciao